Omicidio a Torre Annunziata. La vittima Alfonso Fontana di 24 anni, nipote di un raso ucciso ad Agerola nel 2017, è stato ammazzato dopo le 21.30 di ieri sera da due killer arrivati in moto vicino al tribunale di Torre Annunziata. Ascoltate dai carabinieri più persone che erano in strada al momento dell'agguato. Le forze dell'ordine coordinate dalla procura di Torre Annunziata stanno in queste ore cercando di capire cosa ci facesse Fontana, pregiudicato di Castellamare di Stabia Torre Annunziata nella serata di ieri e si avesse appuntamento con qualcuno. Appartenenti della sua famiglia legata alla criminalità organizzata da decenni in contrapposizione con il clan d'Alessandro hanno per un periodo in passato collaborato con la giustizia. Fontana a sua volta era stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per aver partecipato con la famiglia ad un raid punitivo contro un ragazzo del quartiere di Scanzano. Nel 2016 in sette entrarono armati di pistole in un bar del lungomare ferendo la vittima alle gambe. Oggi l'omicidio di Fontana.